Salve a tutti sono FNFox e questo è un tutorial su come usare PCSX2 Perché faccio questo tutorial? Perché a molta gente quando sono in live mi chiede Ma tu emuli? Sul mio computer non funziona molto bene PCSX2 Ho dei problemi, va molto lento, come fai a farlo andare così bene Allora partiamo dal presupposto che PCSX2 è un emulatore molto 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 pesante Non è che se la PS2 è una console di vent'anni fa Allora automaticamente l'emulatore fa andare i giochi anche come se fosse su un computer di vent'anni fa Mi serve un computer performante, potente e veloce che ve lo faccio andare E la metrica di sul mio computer parte, sentivo nuovo, parte Call of Duty non è una metrica valida L'emulazione non è come far partire i giochi su PC, ok? Sono due cose diverse, l'emulazione fa uso maggiore di processore rispetto alla scheda grafica Quindi un Call of Duty nuovo mi parte benissimo e non mi funziona JackDexter, non è una comparazione valida, ok? Per dire, questo qua è il mio computer Non è il mio computer di sempre però ha una, diciamo, scheda... Insomma, processore abbastanza decente, 16GB di RAM Un i7-8700K e come... Un secondo E come scheda grafica ho questa C'è un piano di questo che non so neanche cosa cazzo sia, sinceramente non so da dove sia salto fuori Però ho questa, una GTX 1060 da 6GB Non è un computer potentissimo però comunque non è neanche un portatile del 2010 Quindi non aspettatevi di far partire, non lo so, qualunque gioco Un Ratchet & Clank, un JackDexter, uno Sly a massima velocità, perfettamente funzionale 100% di velocità su un computer vecchio o non performante, ok? Anche nuove non performanti C'è un computer che possa reggere il PCSX 2 E come ho detto non venite da me a dire, eh ma mi funziona benissimo Call of Duty Però non mi parte JackDexter perché non è una metrica valida Comunque partiamo dall'inizio Per far parte del PCSX 2 servono i BIOS I BIOS sono un'immagine della console, diciamo, della software della console Estrapolato direttamente dalla console stessa Per ottenerli bisogna avere la console stessa, modificata E utilizzare dei sistemi per poter estrarre il BIOS e darvelo su computer Poi una volta che l'avete ottenuto andate, fatevi una cartella BIOS o dir se voglia Ce li mettete dentro E poi dite tramite sfoglia dove avete messo il BIOS, ok? Prima di tutto comunque vi consiglio di scaricare sempre la build La build è l'ultima uscita perché quella stabile spesso ha dei... Mancano delle migliorie che magari nelle build ci sono Quindi dovete cercare PCSX 2 latest build Non latest version, ok? E non andate neanche nel sito ufficiale Latest build dovete cercare Ok Ora General settings Partiamo dall'impostazione grafica del... Dell'emulatore Qui sono tutte le cartelle con i trucchi Salvataggi di stato Insomma, gli screenshot E i registri Ma queste cose qua non lasciatele come sono Anche qui Qui tutto quanto A meno che sulla wiki di PCSX 2 Che adesso ve la faccio anche vedere Questa qui Non ci sia scritto Facciamo un conto, lo so Non ci sia scritto che proprio dovete cambiare qualcosa Per essere sicuri che funzioni Difficilmente vi troverete in condizione di Di doverlo fare E a quanto pare non serve neanche più Una volta qui serviva Ehm Vabbè, una volta qua serviva cambiare effettivamente qualcosa Qui neanche più Ho preso questo qua come esempio Ma a quanto pare non serve neanche più Però tendenzialmente queste cose qua Ma tutte quante lasciate come sono, ok? Difficilmente l'utente finale Che non se ne tanto intende Deve andare a mettere mano Poi può esserci il gioco Che magari vuole che cambi Il V0 O altre cose del genere Per funzionare bene Può esserci Però di base Non toccate niente Se non sapete cosa fate Se cercando su internet Trovate qualcuno Che vi consiglia di cambiare qualcosa Fate l'altro e me ti lasciate com'è Anche perché ogni gioco funziona Con la stessa configurazione Ma in modo diverso È perché purtroppo il PCSX2 Non ha un sistema per salvare le configurazioni Da gioco a gioco Questo qua è per i fotogrammi Chiaramente Per far andare a gioco più veloce Eccetera eccetera Da quanto ho imparato Il salto fotogrammi Su PCSX2 Non è molto Buono Cioè Quindi Io sconsiglio di utilizzarlo Poi se siete proprio disperati Provate Ma io non l'ho mai usato Quindi secondo me Non è una buona idea Questa qua è la finestra In posizione della finestra Questo qua è molto semplice Chiaramente Se volete il gioco Con la Risoluzione Applicato con la Con la La proporzione Classica Dei televisori del tempo Quattro terzi Se no se avete un Wide screen In 16 noni Mettete in panoramico Chiaramente Se il gioco è pensato Per andare in panoramico Tendenzialmente C'è nelle opzioni Andate nelle opzioni Metti in gioco Quattro terzi 16 noni Mettete in 16 noni Se no L'ideale è utilizzare Il formato classico Capito Quindi Questo qua Perché così Sono le bande nere Adesso a sinistra Se il vostro schermo Chiaramente è in 16 noni Cosa che Tendenzialmente è così Ultimamente E E via Per avere diciamo Le proporzioni giuste Comunque tendenzialmente Dopo vi farò vedere Puget 6 2 Per lo più supporta Anche La possibilità Di utilizzare I 16 noni Quindi In tutti i giochi Quasi Perché usano manualmente Hanno solo andati Tutti i giochi I sviluppatori Ma anche persone Che collaborano E hanno trovato Il codice Diciamo Per allargare Il campo visivo Quindi molti giochi Hanno comunque 16 noni Anche se magari Inizialmente Non erano previsti Per farlo Qua vabbè Tutte cose Chiaramente Manco Devo spiegarvi Secondo me Sono cose Abbastanza Autoesplicative Tranne per la Sincronia verticale Questa qua serve Per evitare il Tearing Cos'è il Tearing? È quando Tipo tu Vedi un'immagine E lo schermo Si taglia in due Ok? Succedeva molto spesso Nei giochi PS3 Adesso in quelli nuovi Magari sono ottimizzati Anche meglio Però sì Diciamo che Tendenzialmente La scheda grafica L'attiva di base Quindi tendenzialmente Non dovete attivarlo Anche qua dentro Io consiglio Di lasciarlo disattivato Poi comunque C'è gente a cui Non dà fastidio Il tearing Quindi Non è importante Gli speed hack Questa qui è la parte Diciamo Più rompiscato Gli speed hack Sono Da spiegare Gli speed hack Sono Gli speed hack Sono praticamente Una 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 modifica Del software Che permette Al Al programma Di far girare Al meglio i giochi Ok? Per Ottimizzarli Un po' di più E E cycle rate Diciamo che Tendenzialmente Come dice qua Justamente Modifica Il clock Della cpu Della playstation Il processore Quindi diciamo Che se voi Mandate avanti E Rendete più Pesante Per il computer Il gioco Ma il gioco Potrebbe Tendenzialmente Girare meglio Con alcuni giochi Chiaramente Che magari il gioco Non so Un frame rate Appunto variabile E quindi Sta attorno A 35 Facciamo aumentate Questo Potrebbe forse Girare a 60 Però Si Diciamo che Più è alto E più È appesantito Sul processore Più è basso E più è leggero Però Chiaramente Se dite Alla Processore Virtuale Della playstation Di girare A metà Velocità Anche il gioco Potrebbe avere problemi Dipende Da gioco O gioco È una cosa Che era proprio Testata Io tendenzialmente Non ho mai avuto Anche problemi A zero A volte ho messo A meno uno Con alcuni giochi Più pesanti Come jack x Ma Se avete un computer Performante Questa cosa qua Non dovete neanche Toccarla Secondo me Questi qua A parte alcuni giochi Che hanno problemi Direi di tenere attivati tutti Tranne questo qua Questo qua è per Velocizzare i caricamenti Non per forza Funziona con tutti i giochi A volte danno problemi Io lo disattiverei Però Tutti gli altri Iterreattivati MTVU Questo qua Alcuni giochi Crashano Tipo Se non sbaglio Time splitter Con MTVU Crash Anche Type splitter Future perfect E3 Anche Crash intro kart Crash con questo attivato Però tendenzialmente Non ho avuto Troppissimi problemi Con questo qua Quindi comunque Io lo terrei attivato Pure questo Se avete più di tre core Sul processore Chiaramente Perché c'è comunque Scritto anche qua Io lo spiego Ma leggete Sono i game fix Manuali Questi qua Sono cose che tu attivi Se vuoi attivare Una di queste cose qui Per migliorare le performance Del gioco Questo qua Tales of destiny Serve questo qua Attivato Qui per Tag Team Racing Scarface Serve questo qua Attivato Per Socom 2 Serve questo qua Attivato C'è voi testata I filmati Perché si impallano Serve questo qua Attivato Quindi tendenzialmente Diciamo che Se proprio siete disperati E il gioco Non funziona bene Questo qua Si potrebbe attivare Per farlo funzionare bene Dico la verità Io Le ho usate Pochissime volte Queste cose qua Cioè Difficilmente Giusto per Tag Team Racing Ma tipo La maggior parte Le volte Anche perché I giochi di Gundam Non li gioco I giochi di Tales of destiny Non li gioco Cioè Per quello Sostanzialmente Quindi Si c'è Queste cose qua Le attivate giusto Per quel singolo gioco Poi ricordatevi Di disattivarle Ok Vabbè C'è nulla Tanto non ho modificato Niente Passiamo a delle cose Un pochino Più Semplici Allora Memory card Questo qua Mi sembra abbastanza ovvio Create la vostra Memory card Virtuale Ok Multitap 1 e 2 Insomma La porta Chiaramente Virtuale In cui inserite La memory card Sapete come è fatta La ps2 Non ve lo so Spiegare Sopra controller Alla porta del controller C'è anche la porta Del memory card Poi Si diciamo che ecco Se voglio tipo Creare una memory card Nuova Ok Crea Abbiamo più possibilità C'è quella D'8 mega Che è quella Tendenzialmente Che userei Sempre Va bene Perché Come nella play 2 vera Se usate la memory card Con più di 8 mega Come Che Sony Non ha mai prodotto Quindi se andate sui bai Vedete una memory card Con 2 giga È chiaramente Cinese finta E probabilmente Non va Però vabbè Dettagli Io sconsiglio Appunto Di usare Del memory card Più capienti Di 8 mega Vabbè Questo qua Per i giochi PS1 Ma non usate C'è il duck station Per quello Magari un giorno Faccio un tutorial Se vi serve Ma c'è il duck station Questa qua È la cosa Diciamo particolare Di pc 6x2 Quella più Comoda Cioè Se la attivate Questa qua Vi salva La memory card Su Una cartella Invece che In un'effettiva Memory card Virtuale In teoria È più comodo Ma A volte Ho avuto problemi Personalmente Con questo sistema qua E poi Se dovete Non so Importare salvataggi Da altre parti Non potete Non potete poi Esportarli Da altre parti Sinceramente A me non piace Granché Poi ho avuto Appunto problemi Io direi di stare sempre Con la memory card 8 mega Se non te Puoi essere sicuro Non sbagliarvi Ogni volta Che avviate un nuovo gioco Qui ci scrivete Il nome del gioco Nuovo Che volete far andare Capito Poi fate crea E via E annulla C'è molto facile Comunque Se volete cambiare La memory card Basta trascinarlo E vedete che È questione di un secondo Poi Settaggi grafici Questo qua è più Complicatello Ma ci provo Il render In base Alla vostra scheda video Ok Alcune schede video Non hanno alcuni Di questi renderer Io spero Per voi Abbiate invidia Ok Perché purtroppo PCSX2 Non supporta Vulkan E quindi Non avere invidia È un po' Un problema Con PCSX2 Perché dovete Per forza Tenervi all'OpenGL E non è il massimo Diciamo così L'interlaccio Tendenzialmente Sul non Dovebbe andare bene Anche automatic Però Nel caso Il gioco Cominci a tremare A dare problemi Di quel tipo lì Premete F5 Fino a che non trovate Disco che Visto che è un tutorial Per chi è appunto Proprio basico Per chi non se ne intende Gran che Sinceramente Non mi sento di dire Metteteci mano Capite cos'è Di conseguenza Dico lasciate com'è Sperate che vada Poi oh Non funziona bene Smanettate ma Fino a che qualcuno Ve lo dice Io sconsiglio comunque Di metterci mano Senza capire Cosa ci sia scritto Risoluzione interna Scusate se è in inglese Ma quando scaricate Le dev build Non c'è coerenza Di traduzione Quindi alcune cose Vengono indietro Però Risoluzione Credo che sappiate Tutti che cos'è È il numero di pixel Che c'è sullo schermo Più è alta E più il gioco Potenzialmente rallenta Ok Io metto 1080 Per costruzione Tutti i giochi Però a volte È il caso De abbassare a 720 Ci sono alcuni giochi Che hanno proprio problemi Nell'emulazione Quando hanno una risoluzione Più alta della nativa Quindi Se vedete Non so Delle luci in giro Del ghosting Cose così Io direi di giocare In soluzione nativa Ok In nativa Tra parentesi PS2 Però comunque Tendenzialmente Se i computeri performati Potete anche andare In 4k Non succede assolutamente niente Però Si insomma Cambia da gioco a gioco Purtroppo Non è una cosa così Così immediata Questi sono cose grafiche Il filtro Vabbè Mi sembra ovvio Che è per ridurre appunto L'aliasing Il dithering È questa cosa qua È un po' Complicativa Ma spiegare Ma praticamente Il dithering È quel È quel sistema grafico Che la PS2 Utilizzava Per aumentare L'effetto Dei colori Quando giocate I giochi Su schermi A tubo catodico Ok Praticamente Invece che avere Un Un Aspetta Adesso ve lo spiego In maniera Un po' più pratica Per esempio CanTurismo Faceva un largo uso Di dithering Ok Perché Sugli schermi A tubo catodico Avere questo Effetto Diciamo Vedete Tipo polvere Sullo schermo Dava Un effetto Come se Ci fossero Più colori Era una cosa Piacevole Da guardare Chiaramente Su uno schermo Piatto Come la maggior parte Di voi Sicuramente Usa Su computer Non è un buon Effetto Di conseguenza Personalmente Non lo attiverei Però Comunque La ps2 Lo usa Poi comunque Basta fare Pagina giù E si attiva E disattiva Ok Non Comunque La ps2 Lo usa Ma non così Tanto Perché comunque All'epoca Già stavano uscendo I televisori Nuovi Quindi giochi Fine ps2 È proprio Direttamente Sparito C'è in qualche Gioco Ma Niente di grave Il mip mapping È diciamo Quel sistema Che usava la ps2 Ma anche la ps1 Per dire Ma anche giochi Nuovi Non è per forza Una roba vecchia Per disegnare Più in bassa Definizione Ciò che c'era A distanza Cioè praticamente Quando tu giochi A un Ratchet & Clank Quello che hai A distanza È in qualità Più bassa Rispetto a quello Che hai vicino È Chiaramente Tu lo vedi lontano Di conseguenza Non noti Il fatto che la qualità Sia più bassa Di quel modello 3D Di quel terreno E tutto quanto Però chiaramente I giochi Più ottimizzati Ne fanno largo uso Perché magari Hanno mondi aperti E grandissimi Con un jacked exter Appunto O simili Di conseguenza Avendo mondi aperti Per ottimizzare Al meglio la cosa Hanno un detailing Molto Un detailing Pardon Un mip mapping Molto alto E quindi A distanza I modalità Di sono molto Compressi Quindi chiaramente Disattivare il mip mapping Significa anche Non Accomodare L'emulazione Per questo tipo di cose Io direi di usare Sempre basic Che è quello più compatibile Basta Poi chiaramente Cambia da gioco a gioco Se uno vede proprio Che rallenta Poi fare off Però automatic Deve essere già Abbastanza Attendibile Gli altri Sono semplicemente cose Che migliorano Che migliorano Che sistemano Determinate cose Della grafica Della Della playstation Comunque Automatica E basic Dovrebbe andare bene Per quasi tutti i giochi Ok Queste qua Sono delle hacks Delle Diciamo Delle modifiche All'emulazione Grafica Che vengono Attivate Premendo Qualcuna Di queste Caselle Va bene Tendenzialmente La maggior parte Dei giochi Non dovrebbe Necessitarlo Però se andate Su PCSX2 Wiki Che dopo vi faccio anche Vi ho fatto anche vedere Pure prima E c'è scritto Andate nella Adorax E attivate Che ne so Autoflash Direi che Basta andare qui E lo fate Determinati giochi Per esempio Giochi di Namco Hanno la tendenza Ad avere la necessità Di attivare Vediamo se mi ricordo Adesso vi faccio vedere Ecco Per esempio La maggior parte Dei giochi In Namco Ha questo problema qua Per esempio Racing Evolution Ma conta anche Per Tekken Conta anche Per Per Urban Rain E altri giochi In Namco E dovete Attivare Le vertical lines Praticamente Il gioco Parte Vedete un sacco Di linee Verticali nere Fastidiose Sullo schermo Per attivarle O mettete Il gioco In soluzione base O andate Nelle hardware Hacks Chiaramente In Avanti Avanzate E attivate Le online Sprite Adesso vi faccio Anche vedere Dov'era Ecco qui Questo Lo attivate Su Tekken 5 Su Air Racing Evolution Su Urban Rain E altri giochi Namco Non dovrebbe esserci Più quelle linee Verticali Brute Però si Tendenzialmente Comunque Queste cose qua Non Non vanno per forza Attivate Ecco per esempio In alcuni giochi Può essere utile Usare lo skip drop Che praticamente Taglia Una parte Dei Strati Di grafica In modo che Magari Non so Non appaia Della corruzione Sullo sfondo Non ci sia Tipo una nebbia Che viene emulata Male Cose così Però Sono cose Che tendenzialmente Andate su internet E cercate Trovate la soluzione In due secondi Gli shader Sono Shader Sinceramente Neanche mi ricordavo Ci fossero Però si Sono appunto Del È un È una grafica Post compilata E applicata Sul fotogramma Che state guardando In questo momento Nel Del gioco Appesantisce Chiaramente Il gioco stesso Però Magari Può Aumentare Non so Per esempio La luminosità Ok Aumentare il contrasto Mettere un effetto Tipo tv Come se fosse un CRT Cose del genere Un tubo catolico Di conseguenza Io li lascerei Anche tutti quanti Disattivati Sinceramente Però se giochete Una risoluzione Bassissima Potete attivare qualcosa Per prenderlo Meno diciamo Sgradevole Alla vista Ecco Ah questo qua È il log Vero Hanno cambiato L'interfaccia Quindi sono un po' Smarito Anch'io Il log Praticamente Quando salvate Ok Quando salvate Appare la scritta Non so Salvataggio Su Slot 1 Della memory card Cose del genere Io la tengo disattivato Perché non mi piace Però Si può attivare Inable body tour Ma il nuovo anche a me Non so cosa cavolo sia Sinceramente Però vabbè Recording è Per Chiaramente Registrare Registrare i video Io uso bs Non me ne frega niente Di salva qua Però esiste anche questa qua Nel caso magari Uno vuole fare Non so una Diretta In cui mostra La sua webcam E vuole anche A parte Registrare il gioco Questo qua potrebbe Essere una risorsa Io non l'ho mai fatto Sinceramente Quindi Non Saprei Questo qua pure Non l'ho mai usato Ma è una roba Di opengl Comunque E vabbè Non basta che ci guarda Comunque è molto semplice Molto facile Ah texture filtering Diciamo che la playstation 2 Filtrava Questo può essere una risorsa Attivarlo Quindi eventualmente C'è questo qui Ora Audio settings Abbastanza Autodesplicativo Nel senso che Sì insomma Ecco questo Bisogna lasciare tutto Per com'è Questo qua per esempio Comprime l'audio Lo alleggerisce Se tipo mettete La qualità più bassa Ma Differenziano Credo che dovrebbe esserci Ecco questo qua È l'unica Effettivamente Impostazione Che può essere utile Time stretch Sincronizza l'audio Con il gioco stesso Quindi se il gioco Va a metà della velocità Anche l'audio Va a metà della velocità Invece la sync mix Se il gioco Va a metà della velocità Comunque l'audio rimane Pulito E dritto Insomma il gioco Magari va lentissimo Ma comunque la musica Rimane Nello stesso tempo In cui Sta andando Chiaramente anche qui Non è qualcosa Che vi troverete spesso A fare se il gioco Gira bene Ma se il gioco Gira male La musica che Gratta Da fastidio Uno può anche dire Ma si attivo questo Non è consigliato Però vabbè C'è questa opportunità Cioè Sinceramente Non Questo non so Cosa cavolo sia Sinceramente Qui se qualcuno vuole Qui può attivare Lo stereo Il surround Tutte queste cose qua Vabbè Se vuole può farlo Io in realtà C'ho compito proprio In mono direttamente Quindi non è che Mi cambia molto Generalmente Si C'è questo qua La latenza Il volume È chiaro Cosa sia Non c'è bisogno Che lo spiego Gamepad settings Ecco le cose Diventano leggermente Più complicatelle Semplicemente L'impostazione Dei controller Su PCSX2 Se voi andate Con la Diciamo La impostazione Predefinita Attaccate un controller E in teoria Funziona da subito Però Windows È un po' scemo Il caccione index Magari più alto Dello 0 E non va più Però vabbè Quello è Un altro discorso Tendenzialmente Comunque dovrebbe andare Tutto bene Monitor When in background Vuol dire che Quando non avete La finestra attiva Magari siete Su un'altra Finestra Comunque vi prende Carica lo stesso L'input Cioè Voi premete avanti Con l'analogico E l'omino si muove Lo stesso Anche se magari State guardando Un'altra finestra Io lo tengo attivato Perché chiaramente Andando in live Mi serve Ma non è qualcosa Che sia obbligatorio X input È l'input Dei controller più moderni Ok Tipo quelli che Comprate Nuovi E li attaccate Direct input È per i controller Meno moderni E tastiera E mouse Diciamo che Tendenzialmente Se avete un controller Nuovo X input Doveva andare bene Però comunque In ogni caso Non è detto Avete un controller cinese Magari funzioni Direct input O comunque attaccate Non so quello La PS4 Funzione Direct input Cioè Va un po' testato Dipende dal controller Che avete Chiaramente Multitap Multitap Chiaramente Multitap Sapete cos'è Quel coso Bruttissimo Che c'era la PS2 Che lo attaccavate Alla porta 1 E potete giocare in 4 O alcuni giochi Adesso in 8 Per dire FIFA Potete giocare in 8 Niente Se lo attacchi Chiaramente Si moltiplica Il numero di controller E li impostate È complicatello E poi se non sbaglio Una volta Funzionava Ecco Dovete comunque Attivare Multitap Pure da qua Quindi se volete Potete giocare in 4 Andate in gamepad Attivate Multitap Da qui E poi dovete anche Attivarlo pure Da qui Non fate il mio errore Ci ho perso Delle ore A capire questa cosa qua Mi sono sentito Molto stupido Dopo Quindi si C'è anche quella cosa lì Però comunque In ogni caso Passiamo all'impostazione Dei controller Qui c'è Giterior 2 Eccetera eccetera Ah Attualmente PCS2 Non supporta i plug-in Quindi niente Buzz Per dire Niente SingStar Niente Lifeline Niente giochi che usano Controlli che non sia Quello base PS2 È una cretinata Da fastidio a tutti Però hanno fatto Sa scelta qua Speriamo che tornino indietro Che almeno implementino Quelle cose In questa versione Perché Vabbè qua Tutti quanti i tasti Chiaramente Di base La preimpostazione Io ho messo tutti quanti Controlli sul primo Perché sinceramente Non mi va di litigare Con Windows Ogni volta che devo giocare Ma tendenzialmente Comunque l'impostazione base È molto semplice Voi andate E va Poi chiaramente Se potete impostare Da capo un controller Fate quick setup Vi dice Premete croce A voi premete croce Premete triangolo Premete triangolo Ci vogliono A dire molto Due minuti Non è una cosa Molto difficile Ah Questi qui sono Tipo la vibrazione Che potete impostare Big motor Small motor Qui sotto Io l'ho sempre tolta Perché non mi piace Però c'è E via Alcuni giochi PS2 Pochissimi Ma ci sono Utilizzano Un sistema Per Usare I tasti Con una pressione Maggior o minore Rispetto a quella Che di base Mettereste Praticamente In alcuni giochi di guida Per guidare meglio Il gioco Vi permette di premere Più o meno Il tasto X o quadrato Per frenare O accelerare di più Tipo Jack Dexter Lo fa Galanturismo Lo fa GTA Lo fa Jack X Lo fa Metal Gear Non lo fa per guidare Chiaramente Ma lo fa Per mirare Col fucile Molti giochi Lo fanno The Bouncer Lo fa per dare pugni Più o meno forti Con i controlli moderni Non si può fare Sta cosa qua Però Potete usare L2R2 Che sono grilletti analogici In quel caso Vi basta semplicemente Rimappare Il tasto X Croce Cioè Scusatemi Su L2R2 Ok Non è molto difficile Magari può risultare Un po' scomodo Però Tipo in mezzo Che sono i3 In cui dovete Effettivamente Minacciare Alcuni Alcuni soldati Per farvi dare Delle informazioni E senza questa cosa qua Non potete farlo Può essere necessario Farlo Adesso credo che Sul controllo PS5 Ci sia questa funzione Anche su quello PS3 Però il PS6 Al momento Non lo supporto Ok Una volta lo faceva Adesso non lo fa più Con quello PS3 Quello PS5 Non ancora Mai Non l'ha mai fatto Insomma Però Sì Sì Diciamo che Al momento L'unica soluzione Temporanea È questa qua Cioè Mettete un tasto Che richiede Questo sistema Su L2R2 Quindi siamo sicuri Dopo che funziona E potete andare avanti E potete andare avanti Nel gioco Metal Gear Solid 3 È fondamentale Senza di quello Non si va avanti Con Gran Turismo Al massimo Guidate un po' peggio Ecco Tom Non è grave Anche in Jack and Exeter Guidate molto peggio Però non è grave GTA invece guidate Veramente molto peggio A quelle missioni Diventano veramente Molto difficili Se non impostate I controlli In questo modo Per guidare Quella è una bella altura Però Però sì Sono esempi Capito Poi uno si adatta Poi uno può dire Un giorno Anzi facciamo questa spesa qua Per non controllare PS3 E lo imposto Sperando che un giorno Pc62 Reimplementi questa cosa qua Può anche farlo Ecco Quello sì Quindi Ah potete comunque salvare E caricare Le vostre impostazioni personali Uno può volere dire Anche gioco con la tastiera Si può fare Attivi da Input E puoi supportare Mouse Tastiera E tutte queste cose qua Quindi comunque C'è anche questa risorsa Poi che altro c'è Network e hard disk settings Questo qua per giocare online Per giochi che supportano Online chiaramente Usato una volta o due Vabbè È una risorsa anche questo Sinceramente Non so neanche come impostarlo Per l'hard disk Non ho idea di veramente Di cosa Di cosa Tu possa avvalerti Con l'hard disk Cioè Che io sappia Sono giochi che utilizzano L'hard disk Quindi Non lo so Non so neanche Perché ci sia Forse per testare La modifica Non ho idea USB settings È per attivare Chiaramente Ah poi sai È rimasto che non potevi Allora Adesso funzionano Questi giochi qua Vabbè Per impostare Diciamo virtualmente Quello che tu attaccheresti A USB Alla Alla PS2 Quindi I buzz Che sono quei giochi Da giocare Tipo Quiz Che è più chi vuole essere Milionario Per esempio Singstar Che è quello per cantare E cose di questo tipo qua Rock band Insomma La chitarra Chiaramente tipo Guitar Hero E simili Beatmania Blablabla Cioè Hai toy Per muoversi con la webcam Eccetera Cioè Carina come cosa Non è che difficile da impostare È un po' scomodo Però non è neanche difficile Multitap per attivare E disattivare Change language Per cambiare la lingua Chiaramente Se non vuole in italiano Può metterlo in inglese Se non vuole in inglese Può metterlo in tedesco Se non vuole in tedesco Può metterlo anche in finlandese Però sì Insomma È ovvio Questo qua Resetta tutte quante le impostazioni Questo qua Potete anche non toccarlo Idem Questo qua Per salvare i video Per registrare Per fare i Screenshot Questi qua Sono tipo Vari aiuti C'è la wiki C'è il sito ufficiale C'è il forum di supporto Utile Anche questo qua Comunque eventualmente La lista di compatibilità Che quasi tutti i giochi Sono giocabili Alcuni non partono Ma Nel percentuale molto basso Tipo Marvel Nemesis Non va Altri giochi Danno alcuni problemi Però sì Generalmente La compatibilità È diventata molto alta Con gli anni E vabbè Vario aiuto Ecco Questo qua È la parte Per far partire il gioco Chiaramente prima Uno deve impostare il gioco Questa qua c'è a ISO Nel caso abbiate messo il gioco Su ISO E questo qua È per mettere il gioco Su disco Nessun disco Sarebbe per far partire il BIOS E impostare la memory card E varie impostazioni varie E può servire Per mettere la prestation In widescreen Così alcuni giochi partono Già in widescreen Senza impostarli voi Disc Per mettere il disco Nel torre cd Quello originale ps2 Lo mettete dentro Viene caricato ISO È per chiaramente Mettere le ISO Quelle che fate voi Con image burn Image burn È questo programma qua Adesso ve lo faccio vedere Questo programma qui Che serve per fare le ISO E stare le ISO Dal Dal computer Dai dischetti originali E metterle sul computer Le ISO Sono le immagini Del dischetto Chiaramente Vedete Ecco questo qui È un altro programma Se volete scaricare Se volete scaricarlo Scusate perché è gesticolo Se volete scaricarlo Poi fate Create image file From disk Mettete il vostro disco ps2 Dentro al lettore cd E poi fate partire Tutta quanta La scrittura Chiaramente Un gioco su ISO Va molto meglio Che un gioco su cd originale Ok Cioè ogni tanto capita Che uso il cd originale Per comodità Però in realtà Sì avere la ISO Effettivamente del gioco Fa sì che i caricamenti Siano molto più veloci Quindi Se avete dei giochi ps2 In casa Vi consiglio di farvi la ISO E farli partire da lì sopra Eeeh Ah per chi mi deve chiedere Dove si scaricano i giochi I giochi si comprano Su ebay Va bene Non venite su we buy Su amazon Non venite a chiedermi Dove si scaricano i giochi Perché è illegale Non si può fare Dovete avere il vostro gioco originale Metterlo nel dischetto Il dischetto nel vostro lettore DVD E farvi la ISO Non potete andare in giro A scaricare i giochi Perché è contro la legge Va bene Ok Qui selezionate il drive Su cui fa partire il gioco Chiaramente Quale Quale Lettore cd Avete montato la vostra Avete montato Avete messo il vostro cd Vedete io ne ho due Ho messo e perché è quello Qui davanti Però sì C'è un altro Questa qua è la ISO Va bene Dice anche Dexter Ok Qua Game fix automatici Perché alcuni giochi Hanno bisogno di alcuni fix Alcuni diciamo Modifica il codice Dell'emulatore Per funzionare al meglio Va bene I cheat sono i trucchi Più complicato da spiegare Bisogna Diciamo compilare Un file Pnatch Che serve Ad alterare alcuni codici Che mi mettono a vita infinita Sblocca personaggi Teste grandi Queste cose qua Io li uso Però Compilare i pnatch È una cosa un po' Da Da Utente Avanzato Ecco non so spiegarlo adesso Magari lo spiego un'altra volta Configura I pc Questo qua non so neanche cosa sia Sinceramente Idem Inable input Codic Dove sempre fare le macro Ma non so mica sicuro Anche questo qua Abilità Facilità del lost Non so cosa sia Abilità E patch Widescreen Ecco questa cosa qua è carina Allora praticamente Pnatch 2 ha un Numero Altissimo Adesso vi faccio anche vedere Di giochi A cui è stato fatto Una Una pnatch Dedicata Per avere i giochi Diciamo a schermo panoramico Ce ne sono tantissime Adesso vediamo un po' Quanti sono Sono Un'infinità Anzi Non ci riesco neanche Sono 3702 File Va bene Questi qua Sono tutti quanti Dei codici Fatti dagli utenti Per avere quasi tutti i giochi PS2 In risoluzione Scusate In prospettiva 16 noni Panoramica Va bene E Che ci fa tornare a prima In cui Qui puoi impostare 16 noni E il gioco va In modalità 16 noni Panoramico Allargato Diciamo Rettangolare Invece che Quattro In realtà questo qua Rettangolo Anche lui Ma più piccolino Più stretto Come le televisioni Moderne Quelle larghe Verso 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 L'orizzontale Esatto così E Voi lo attivate E molti giochi Aumentano il campo visivo Cioè invece che essere Giochi Strecciati Allargati Obesi Invece che vedere Ratchet Grosso il doppio Vedete proprio Quello che c'è Più a destra E più a sinistra E se lo attivate Fa questo Questo sistema qua E vi permette di giocare I giochi Tutti i giochi Che sono stati registrati In quel sistema lì Che sono 3700 Quello che sono In quel modo lì Quasi tutti i giochi Hanno questo sistema Hanno questa Questa ottimizzazione Ecco diciamola così E su PCS 2 vanno Però Alcuni giochi Hanno problemi Tipo io ho avuto A che fare con Monster House Tratto dal film Che Dava un problema grafico E non si poteva giocare Con questo qua attivato E anche Nightmare Before Christmas Attenti a Bao Bao Sempre Tratto dal film Anche lui Dava problemi Con La patch widescreen Quindi io sinceramente Sconsiglio Di attivarlo Se il gioco Dà problemi O meglio Il consiglio di te l'ho attivato Ok Ma se vedete Che il gioco Dà problemi Prima cosa da pensare Vediamo se è colpa sua Ok Anzi prima cosa da fare Si guarda sulla wiki Se sulla wiki Non c'è scritto Vediamo se è colpa sua Ok Quindi direi Attivatelo a prescindere Però eventualmente Dove se da problemi O andate Prima a vedere sulla wiki Date un'occhiata sulla wiki A vedere se ci sia qualche modo Per risolvere Capito Io non so Che cacchino Sly Magari Sly Da problemi Capito Vai a vedere Ah Ci sono questi problemi qua In Sly E segui queste cose qui Va bene Se queste cose qua Non funzionano Non servono Allora Si opta Per disattivare Il Questa funzione qua Però Sono casi abbastanza rari In realtà Non è che qualcosa Che succede In tutti i giochi Ogni tanto Capita Ecco Ora 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 Creare backup Per salvare Per salvare Gli stati Ok Quando tu salvi uno stato Con salvataggio Siamo rapido E non è come quando salvi Nel punto di salvataggio Nel gioco In cui devi tornare lì La sorta di punto di controllo Invece questo qua È proprio per salvare Nel momento esatto In cui è premuto qui E in questo qua Ti crea un backup Del salvataggio Quindi Non rischi di perderlo Fast boot Questa cosa qua È un po' più complicata Da spiegare Ma non è difficile Praticamente Quando avvi Il gioco Della Playstation 2 Parte Chiaramente Adesso vi faccio vedere Lo riduco Piccolissimo Perché chiaramente Ce l'ho in 4k Ecco qua Parte l'inter Della Playstation 2 No Sony Computer Entertainment È così Quando c'è questa intro qua Il gioco carica anche Le lingue Ok Lingua 0 1 2 3 4 5 L'italiano è la lingua 5 Il giapponese è la lingua 0 Le altre in mezzo Sono inglese Francese Tedesco E lo spagnolo Quindi Praticamente Se voi fate partire Questa cosa qua Il gioco Con il full boot Il gioco Registerà Che voi avete la Playstation In italiano E dopo vi spiego Anche come si fa Ma è molto semplice E il gioco partirà In italiano Ok Se invece voi fate Il full boot Il gioco potrebbe partire Non sempre succede Ma potrebbe partire In giapponese Vedete Facendo questo qua Salta Il Sony Computer Entertainment Eccetera eccetera Va direttamente al gioco Per risparmi a tempo Per risparmi a tempo Chiaramente Però il gioco potrebbe Partire in giapponese Adesso ho portato Jack and X Non so che succeda Ma Eh no Non è successo Con Jack and X Però alcuni giochi Hanno questo problema qua Quindi diciamo che Il full boot È bello perché risparmi tempo Ma alla fine è brutto Perché Non per forza Il gioco parte In italiano Quindi comunque In ogni caso Non è il massimo Però per Prima di tutto Bisogna fare Questo procedimento qua Andate Fate partire Il gioco senza il disco Cioè l'emulatore senza il disco Hanno chiaramente Nessun disco Per facendolo partire Appare al menu Della Playstation 2 No? Quello classico Che tutti conosciamo Configurazione di sistema Per tutto impostate qua Se avete lo schermo In 16 noni Volevo tutto l'altro 16 noni Così il gioco Alcuni giochi Si auto E immettono In 16 noni Tramite questo L'ho attivato E la lingua In italiano Ok Faccio tutte le varie lingue Però chiaramente Voi la mettete In italiano Così il gioco Viene registrato Come che parte In italiano Tendenzialmente Questa cosa qua La fa automaticamente Pc6 2 Ma a volte Non succede Quindi via Il browser È per tipo Le memory card Ok Lo sapete tutti Cliccate Qui sta caricando Potete sbarazzarvi Di qualche Salvataggio Andate qua E fate Non so Boh Yu-Gi-Oh Elimina E si elimina Il salvataggio Cioè È come su Play 2 Vera Ok Non è che L'emulatore Vi gestisce Automaticamente I file all'interno Dovete farlo Direttamente voi Tramite Questo menu qua Di sistema Non è niente Di assolutamente Difficile Però Va Va fatto Va fatto Quindi Non è Non è complicato Per niente Anzi Delle 2 È più facile Me ne basta Fare così E via Tolto questo Comunque Direi che Ho detto Abbastanza Tutto Penso di sì Doppio clic E lo schermo Va intero Facile Facile Ah ecco Giusto al volo Per farlo vedere Riprendi Se voi fate Se voi chiudete In quel modo lì Il gioco Non si chiude Ma si blocca Va in stop Ok Basta fare riprendi E tendenzialmente Il gioco fa così Salva stato E così Salvi E carichi Chiaramente sul menu Qua non ha senso farlo Però in generale Basta fare così Perché anche salvo Su un file preciso Ok Non deve essere per forza Qui Magari volete passare Salvataggio A qualcun altro Poi che altro Ah sì Le hotkey Tab velocizzate Tab è quel tasto Che sta sopra In alto a sinistra Sopra Bloc maiusc Ok F8 No Scusa F9 Andate in modalità Software Che è la modalità Che usa solamente Il processore È quella più sicura Tra virgolette Però è quella più pesante È molto più pesante E può andare solamente In soluzione nativa Quindi Proprio se gioco a problemi Usate quella Se no È meglio evitare E F5 È per quello Che dicevo prima Il Se il gioco trema Vedete proprio Una vibrazione Nel gioco Lo permette Fino a che non Ecco per esempio Così Lo permette Fino a che non vedete Che sparisce Che cambia modalità A rotazione È proprio Beccato È quella che Che non fa tremare Il gioco Per il resto C'è tipo F3 Per caricare lo stato F1 Per salvarlo Pausa Andata in ESC Sono un po' Di hotkey Ce ne sono diverse Ma quelle importanti Le ho dette tutte Cioè le altre Ci sono Ma non mi vengono Neanche in mente Credo che Mi sembra che con F2 Cambi lo slot Dello stato Per esempio Sì infatti Vedi Quindi Sì Cioè la maggior parte Le ho dette tutte Ora che In questo 40 minuti di video Preso di metterci meno Sapete tutto quello Che c'è da sapere Di base Di PCSX2 Con queste conoscenze Sapete bene o male Tutto quello Che vi serve Per giocare Semplicemente Con l'emulatore Ok Poi se avete Delle difficoltà C'è qualche problema Andate Qui Su questo sito Chiamato PCSX2Wiki Cercate il gioco Che vi da problemi Ok Io butto Ratchet Gladiator Poi dire Vabbè Led Lock È lo stesso gioco Comunque Giusto per capirci Guardate su qualche problema Da risolvere Tipo Ombre rotte Manca da geometria Problemi col bloom E simili Poi andate qui sotto E attivate Queste cose qua Cioè in inglese Fatevi google translate Il plug in E via Cioè Ve lo traduce Facile Facile Basta che proprio Direttamente andare Qui sotto Seguite queste istruzioni Qua che sono Molto semplici E ottenete Il risultato Del gioco Che si corregge Adesso non ho Nessun gioco Che abbia dei problemi Gravi Da farvi vedere Comunque basta andare qua Graphics Settings Andate qui in AX Capito Le attivate E attivate tutte le varie impostazioni Che sulla wiki Ci sono scritte Poi c'è il forum Eventualmente Sono dei video Che aiutano Cioè non è niente di Di difficile Assolutamente Detto questo Grazie per avermi seguito Per aver seguito Il tutorial Spero che vi sia stato Anzi d'aiuto Delle due E ditemi Se ci sono dei problemi Nei commenti Ripeto che Il computer Che avete È determinante Se il computer Vostro è brutto Non Non potete fare Miracoli È un emulatore Pesante Questo qua Non è che se c'è scritto Il gioco uscito nel 2001 Allora il vostro computer Che è del 2015 Lo fa partire bene Per forza Ok Non funziona così Non sono giochi per pc Sono giochi emulati Sono giochi pesanti Questi giochi qua Sanguissughe Proprio che Usano tutto il processore Tutte le risorse Che possono Perché L'emulatore Non è ottimale Per alcune cose Ok Va bene Detto questo Grazie per il tutorial Anzi no grazie Che cazzo sto dicendo Ricordatevi Spero che vi sia stato Tutto aiutile del tutorial E soprattutto a ringraziare Quando chiudo Capito Quindi di conseguenza Mi viene da ringraziarmi Da solo per il tutorial Bello che ho fatto No vai scherzo È stato un tutorial Abbastanza basico In realtà Sono cose che io trovo Che siano abbastanza ovvie Perché comunque C'è da dire Che comunque Io uso PCSX2 Da 10 a No Un po' meno Ma 2015 come minimo E lo uso quotidianamente Quasi Quindi Alcune cose che per me Sono ovvie Magari per altri Non lo sono Quindi spero che sia stato Utile il tutorial Ditemi nei commenti Se è tutto chiaro Se vi mancano Qualche Se vi manca Qualche Diciamo Dettaglio Che non riuscite a capire Detto questo Se non siete iscritti Iscrivetevi al canale Che Magari Mi date la mano E poi comunque Vi do anche una mano Io eventualmente Il tutorial Spero che sia stato utile Ne farò anche altri Per altri emulatori Se vedo che Viene apprezzato E Poiché altro Mettete mi piace Al video E Se volete comunque Supportare Me Che creo cose E Gioco giochi Vecchi E Tutte queste cose qua Creo video Faccio anche tutorial Eccetera C'è il grazie Su youtube Cliccate pure sopra Mi date un caffè Un euro E E niente Mi fate felice Così Tanto Non è che succeda Mai Come cosa Però Quelle poche volte Che succede Sono comunque Molto contento Perché vuol dire Che quello che faccio Viene apprezzato Viene Viene apprezzato E aiuto qualcuno Quindi O comunque Intattengo qualcuno Quindi comunque Mi Illumina la giornata Diciamo Detto questo Grazie comunque Per avermi seguito E ci vediamo Al prossimo video Ciao 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 Grazie.